Mentre qualcuno si sta attardando in una battaglia di recontraguardia, inutile, una disinformazione sulla vicenda del nome, non si cambia il nome d'annunzio, non si toglie il nome d'annunzio, ma si aggiunge al nome d'annunzio quello dell'adriatico, l'aggettivazione dell'adriatico, perché è giusto che sia così, perché la vocazione, l'ambizione, oltre alla operazione di marketing per avere più attrattività e conoscenza, perché basta andare su Google e digitare d'annunzio ed escono un numero di link, se si digita dell'adriatico escono dieci volte di più i link usciti per d'annunzio, quindi un'operazione di marketing, ma io non mi fermo all'operazione di marketing, io guardo alla sostanza, la Università dell'adriatico d'annunzio di Chieti Pescara, così si chiamerà, non mi dà fastidio, anzi mi fa pensare che noi saremo forti al punto da attrarre tante altre persone, semplicemente perché li raggiungiamo subito con la conoscenza del nome dell'Università. Poi c'è il piano formativo, che spetta all'Università rendere il più possibile di alta qualità, in modo che ci sia la scelta della nostra Università, poi spetta a noi istituzioni di collaborare con l'Università, perché gli studenti che arrivano in questa città si trovino bene. E noi lo stiamo facendo, lo stiamo facendo con la Casa dello Studente, che è il progetto che abbiamo per il Centro Storico, lo stiamo facendo con la collaborazione perché possano gli strumenti muoversi liberamente anche nelle ore notturne con i mezzi pubblici, lo stiamo facendo con, ad esempio, la collaborazione per il nuovo evento che si terrà a Chieti a settembre, che è la Notte dei Ricercatori, che era un evento che si faceva a Pescara, adesso si farà a Chieti.